Un giorno tempestoso, un bullo sulla moto, arrivato scherzoso, ma leggero un accorso. Senza permesso, non si può fare, deve essere concesso, nessuno pesce l'esso. Con questo è un lavoro per sicurezza, la spada luminosa cancella ogni volta che se un video fai, così non finisci nel guai. Ma sta dentro alla ricerca, quando pubblichi il materiale, quando vuoi scaricare, il copio lo devi rispettare, altrimenti ti succede come a quella ragazzina. Questo è un lavoro per sicurezza, una spada luminosa cancella ogni cosa che se un video fai, così non finisci nel guai. Un giorno un po' sbadato sono stato, i miei dati personali ho pubblicato, ho conosciuto il re Puntizio, però non è mio zio. Dall'ora che sono chiarato, e ora sono disperato. Ma questo è un lavoro per Security Web, con la spada luminosa cancella ogni cosa che se un video fai, così non finisci nel guai. Ma chi è Security Web è chi non è indifferente, chi ti ascolta veramente, chi ti aiuta evitando nella rete ogni capito. Grazie a tutti.